Emilia Romagna, misterioso erotico tour di Gianluca Morozzi, Elena e la pietra di Bologna. Com'è che faceva quella canzone di perturbazione? Erika, tu eri l'unica, ma soprattutto nelle ore di ginnastica. Me la canticchio mentalmente mentre vado verso la libreria Trame, cambiando il nome Erika con Elena. Elena è una mia canita elettrice. Ci siamo scritti su Facebook per due settimane e oggi finalmente ci conosceremo dal vivo. Scenderà dal suo paesello Veneto per venire a Bologna e vedermi presentare il nuovo romanzo, Il settimo canto, in cui ho inventato un'improbabile ma accattivante storia esoterica su un canto della Divina Commedia che nasconde dei complicati segreti. È la prima tappa del mio tour di presentazioni e la affronto in casa, nella piccola libreria a due passi dall'Osteria delle Donzelle, la cui libraia conosce le sinossi e i finali di tutti i romanzi usciti nell'ultima settimana e sa consigliarli con dovizia e precisione. Ho promesso a Elena di portarla a vedere qualcosa di suggestivo della mia città, a evento letterario terminato, e allora, dopo la presentazione, usciti dalla libreria Trame, le faccio fare una brevissima camminata attraversando via dell'indipendenza e la porto al Museo Civico Medivale. Là dentro ci fermiamo davanti a una lastra di marmo rosso. Questa è la Pietra di Bologna, un'antica e misteriosa iscrizione che, secondo alcuni, è uno scherzo letterario. Secondo altri, nasconde la chiave per la Pietra Filosofale. Ne ha parlato anche Jung, tra le altre cose. A voce bassa e sua dente, quella che uso quando parlo dei miei libri, traduco l'iscrizione latina. Elia Lelia Crispis, né uomo né donna, né androgino, né bambina, né giovane, né vecchia, né casta, né meretrice, né pudica, ma tutto questo insieme, uccisa né dalla fame, né dal ferro, né dal veleno, ma da tutte queste cose insieme. Né in cielo, né nell'acqua, né in terra, ma ovunque giace. Lucio Agato Priscius, né marito, né amante, né parente, né triste, né lieto, né piangente. Questa, né mole, né piramide, né sepoltura, ma tutto questo insieme sa e non sa a chi è dedicato. Che significa? Domanda Elena. Te l'ho detto. Nessuno lo sa. Ma c'è un altro paio di interessanti vicende legate a questa pietra. Primo, era custodita in un complesso che un tempo era la sede del priorato dei frati gaudenti. Il complesso è stato distrutto in un bombardamento nel 43 e si è salvata solo la pietra. Secondo, questa è una copia fatta quando il testo è diventato illegibile, ma nella trascrizione si sono persi gli ultimi tre versi. E li recito. Questo è un sepolcro che non contiene alcuna salma. Questa è una salma non contenuta in alcun sepolcro, ma la salma è la stessa cosa del sepolcro. Ed eccola che si accende la mia lettrice veneta che tanto aveva amato i misteri poetico esoterici del mio romanzetto dantesco e che non avevo dubbi ha adorato questa iscrizione avvolta dal più tenebroso mistero. Ora sono un signore e non dirò com'è finita la serata, però ecco è finita bene. Angela è la tomba di Dante. Angela serata libera dentro al silenzio nella camera dei tuoi. Ecco mentre guido verso Ravenna per la seconda tappa del tour continua a cantare Iperturbazione ma senza cambiare il nome della ragazza. Già perché la lettrice che sta venendo a vedere la mia doppia presentazione la prima più classica alla libreria liberamente la seconda più informale in un locale del centro che si chiama Moog arriva dalle marche per conoscermi è innamorata di Dante delle interpretazioni dantesche e un pochino anche di me mi pare di intuire però non conosce un dettaglio sul sommo poeta una cosa che in effetti incredibilmente non sanno tutti anzi la sanno in pochi girando l'Italia in lungo e largo ho scoperto che quasi tutti credono che Dante Alighieri sia seppellito a Firenze tutti compresa Angela delle Marche e allora certo potrei affascinarla con i mosaici bizantini e il mausoleo di Galla Placidia o Santa Pollinare Nuovo o magari scendere alle saline di Cervia a cercare i fenicotteri rosa invece la conduco in una stradina stretta del centro le dico di fare silenzio perché specifico in questa zona è obbligatorio rispettare il silenzio e la conduco alla tomba del poeta un tempietto neoclassico a pianta quadrata bianco sormontato da una piccola cupola che contiene la tomba vera e propria ricoperta di stucchi e marmi preziosi quando usciamo sempre in silenzio perché questa è la zona dantesca i nostri passi sembrano risuonare con una consistenza diversa e quando torniamo a parlare dopo aver superato il convento di San Francesco che di Dante ha visto celebrare il funerale chiacchieriamo un po' di Byron e Ravenna di Bizantini e dopo beh sono un signore come dicevo sopra e la serata finisce allo stesso modo di quella precedente Maddalena il castello di Torre Chiara e il labirinto dell'amasone con una digressione verso Rimini con la terza ragazza che devo incontrare non mi viene da cantare i perturbazione perché Maddalena è un nome troppo lungo per farlo stare in metrica e siccome la terza presentazione è a Parma alla libreria diari di bordo e siccome Parma l'ho visitata quattromila volte Maddalena che è una mia elettrice autoctona prende l'iniziativa e mi guida a scoprire un paio di luoghi che garantisce mi piaceranno prima mi conduce al quattrocentesco castello di Torre Chiara voluto da Pier Maria Secondo De Rossi per appartarsi con la sua amante Bianca Pellegrini il castello mischia tratti medievali ad altri rinascimentali domina un borghetto medievale e chiaramente ospita un fantasma nelle notti di luna piena accanto al rio delle favole l'antica via d'accesso Pier Maria Secondo De Rossi apparirebbe per cercare la sua amata pronunciando ripetutamente le parole Nunc et Semper qui è stato in parte girato Lady Oak dice Maddalena ma è già tempo di partire per la seconda sorprendente tappa andiamo verso Fontanellato perché come mi spiega Maddalena certo le è piaciuto il mio romanzo dantesco ma più che il settimo canto ha amato il mio libro d'esordio ambientato in un labirinto quadridimensionale che si espandeva per tutta la storia dell'umanità e lì mi guida nel labirinto della Masone che si espande per sette ettari ha una pianta a stella a otto punte ed è il più grande labirinto di bambù del mondo a quanto mi dice la mia graziosissima guida ci perdiamo nella collezione d'arte raccolta da Franco Maria Ricci in 5.000 metri quadrati mentre il sole passa tra i bambù giganti medi e nani dai quali sembra poter sbucare da un momento all'altro un inquietante minotauro un minotauro del buon gusto artistico però tornando verso Parma ci mettiamo a parlare di luoghi suggestivi di Castelli quello di Ferrara o la rocca di Castello Arquato e al castello di Montebello le chiedo ci sei stata? no dov'è? vicino Rimini ci sono due cose molto interessanti su questo posto e comincio a raccontare la storia di Azzurrina la bambina albina scomparsa mentre giocava con una palla di stracci in un nevaio e della cassapanca islamica portata in Italia come bottino della prima crociata che raffigura una donna incinta sotto una tenda con le gambe legate e crociate destinata a un patto impossibile mortale per la madre e per il nascituro intanto tra bambine sparite e cassapanche misteriose siamo arrivati alla mia auto non ho neanche elaborato una strategia di approccio con questa bella ragazza di Parma tanto lei mi sembra piena di spirito iniziativa e ne sono convinto ha già studiato tutto convinzione errata Maddalena mi dà due bacetti sulle guance mi saluta sorridente e se ne va caspita però è come se un uomo ti invitasse a vedere la collezione di Farfalle perché vuole farti veramente vedere la collezione di Farfalle Bianca e la Rocchetta Mattei partecipo col mio romanzo alla rassegna letteraria Montagne di Libri stavolta in compagnia di Bianca e se sembra che certi scrittori siano come dei marinai che hanno una donna in ogni porto in effetti è perché certi scrittori sono come dei marinai e hanno effettivamente una donna in ogni porto per quanto parlare a Casigno sull'appennino bolognese possa sembrare bizzarro comunque prima della presentazione serale io e Bianca ci spingiamo tra i tornanti fino a Grizzana Morandi e alla località di Savignano per visitare la famosa Rocchetta Mattei a oltre 400 metri sul livello del mare di colpo appaiono dei minareti e c'è questa rocca che sembra uscita da una fessura nello spazio tempo per materializzarsi sulla porrettana anzi i vari pezzi sono usciti da differenti fessure affacciate su tempi e posti diversi come se una costruzione in stile moresco si fosse fusa a un'altra medievale creando un affascinantissimo ibrido bisognerebbe ambientarci un romanzo ma lo ha già fatto Loriano Macchiavelli e allora ammiriamo il cortile dei leoni che è stato strappato da quella famosa fessura direttamente dalla città di Granada alla Lambra e il loggiato in stile orientale la camera bianca la camera turca il balcone di roccia scoperta la scala delle visioni e l'incredibile cappella che sembra arrivare un po' da Cordoba e un po' da un quadro di Escher ma la cosa che più interessa a Bianca che è abbastanza fissata con le medicine alternative a quanto scopro è un'altra lo sapevi che in questo posto il conte Mattei ha inventato l'elettromeopatia mi dice cosa sarebbe l'elettromeopatia scusa l'ignoranza in pratica era un modo di caricare con l'elettricità i granuli vegetali l'effetto semplificando era quello di equilibrare le parti malate e quelle sane usando la polarità dell'organismo tipo medicina cinese no? sì c'è tutta una storia interessante di elettricità bianca verde o azzurra a seconda delle patologie da curare se si riferivano al sistema linfatico o ai tessuti al sistema ematico o agli organi ma la cosa più misteriosa e qui mette su un'aria da fanatica complottista cosa che in genere mi irrita un po' ma su quel visetto pallido dà un intrigante tocco di colore è che il procedimento era segretissimo ma dei cinque fogli che spiegavano i segreti dell'elettromeopatia a noi ne sono arrivati solo quattro quello più importante la descrizione del procedimento è sparito e scommetto che ora siete troppo affascinati da questa sparizione per chiedervi come è andata a finire tra me e bianca monica e la pietra di bismantova c'è anche la volta in cui il marinaio sbarca e va in taverna a bere da solo e infatti alla presentazione a castelnuovo nei monti nell'appennino reggiano non ho lettrici o ammiratrici ad accompagnarmi però quando sto per ripartire in direzione di bologna apro facebook e c'è la richiesta d'amicizia di una certa monica che non sembra affatto male dalla foto del profilo accetto l'amicizia e un attimo dopo mi scrive un papiro su quanto l'ha affascinata tutta la mia storia sul canto sostituito della divina commedia lei ha sempre avuto un grande amore per dante eccetera eccetera e allora visto che dove mi trovo faccio una cosa molto semplice mi sposto per trovare la posizione giusta e scatto una foto alla pietra di bismantova il gigantesco monte che da qui riempie il cielo con la sua forma di tronco mozzato la sua sporgenza che la fa sembrare una nave la mando a monica le spiego che non solo questo sperone di roccia è citato nel purgatorio ma secondo alcuni è la montagna del purgatorio o meglio è servito da ispirazione a dante per la montagna del purgatorio e segue una conversazione via messenger sull'incredibile coincidenza ovvero il fatto che io mi trovi in questo luogo e che forse la pietra aveva una forma diversa nel medioevo e alla fine mi chiede quando e dove sarà la prossima presentazione grazie sommo poeta grazie grande sperone di roccia che domini l'appennino reggiano mentre torno a casa mi rimetto a canticchiare iperturbazione cambiando il nome monica tu eri l'unica di roccia di roccia di roccia di roccia